L'Ara Stefano, una giovane ragazza di soli 29 anni, è stata vittima di una miocardite fulminante che non le ha lasciato scampo, nonostante l'impegno dei medici che l'hanno soccorsa nella notte del 2-3 maggio. La comunità di Rezzato, dove Lara viveva con la sua famiglia e in credule non riesce ad accettare la perdita di una ragazza così giovane, forte e sportiva. Tuttavia la famiglia può trovare un po' di conforto nel sapere che Lara ha potuto aiutare altre persone grazie alla donazione dei suoi organi. La generosità di Lara e della sua famiglia ha permesso ad altre persone di continuare a vivere.